Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, ancora un furto nel Valdarno Aretino, è stato arrestato un trentenne da parte dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, l'episodio è avvenuto nella notte scorsa e l'uomo è stato arrestato in fragranza di reato. I carabinieri sono intervenuti al circolo Minigolf Valdarno, dove il trentenne poco prima aveva rotto una finestra, si era introdotto nella struttura e aveva rubato il denaro contenuto in cassa. Alla vista dei militari ha tentato la fuga a bordo di una bicicletta, ma è stato raggiunto e arrestato. Questo, come dicevamo, è l'ennesimo furto nel Valdarno Aretino, una scia di colpi davvero importante, proprio le categorie economiche. Nei giorni scorsi hanno chiesto un incontro con il presidente della conferenza dei sindaci, in questo caso il sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, per poi chiedere un ulteriore confronto con il prefetto e il questore di Arezzo. Una serie di incidenti nel sabato notte appena trascorso. Il primo avvenuto lungo la regionale 71 nei pressi del bivio di Sitorni, con due feriti, tra cui anche un minorenne, intorno all'1.45 del mattino. Un altro incidente, sempre sulla stessa arteria, in questo caso all'altezza del centro commerciale Ipini, nei pressi di Olmo. Un'auto è finita fuoristrada a bordo, tre giovani è stato soccorso, un ragazzo di 21 anni rimasto ferito e trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo, lievi le ferite per fortuna per gli altri occupanti. E allora la pioggia, in qualche caso anche un po' di grandine, è arrivata nel territorio aretino, per fortuna senza danni. Le previsioni meteo non hanno tradito le aspettative. La pioggia è arrivata anche nell'aretino, un po' in tutti gli angoli della provincia. Ad Arezzo purtroppo ha rovinato l'edizione di agosto della fiera antiquaria. La pioggia in alcuni casi è stata accompagnata anche da grandine, ma per fortuna non si registrano danni. Un po' di ore di pregua dalla calura estiva, insomma, che secondo gli esperti non durerà a lungo. Domenica 4 agosto sarà ancora una giornata prevalentemente serena e affosa, con la temperatura minima di 22 gradi e la massima di 34 gradi centigradi. Il sole tornerà a splendere con buona pace di chi, beati loro, si trovano nelle località di villeggiatura. Un po' meno felici coloro che invece dovranno affrontare un'altra settimana di lavoro e caldo torredo. Come abbiamo sentito, insomma, saranno davvero poche ore di refrigerio e poi tornerà il caldo, o perlomeno per la prossima settimana. E allora, dalla ASL Toscana Sud-Est arrivano i consigli per evitare la disidratazione. Una corretta alimentazione contribuisce ad affrontare al meglio la stagione estiva e le temperature elevate, riducendo i rischi per la salute. Il principale fattore di rischio è la disidratazione, a cui sono maggiormente esposte le persone anziane e i bambini. Fondamentale, quindi, spiega Nicola Vigiani, direttore area dipartimentale igiene pubblica e nutrizione della ASL Toscana Sud-Est, rispettare alcune semplici indicazioni. La prima è quella di bere molta acqua, evitando o limitando il consumo di bevande gassate e zuccherate, mangiare ogni giorno frutta e verdura di stagione, preziose anche per il loro apporto di acqua. È bene prediligere piatti unici e fonti proteiche, quali il pesce, legumi, latticini, uova e carne bianca, limitando invece il consumo di carne rossa e sale. Nella preparazione dei piatti è consigliabile variare gli alimenti anche nei colori, in quanto il colore di frutta e verdura è dato dalle sostanze ad azione antiossidante, come vitamine e polifenoli. È possibile consumare un gelato, ma al massimo due o tre volte a settimana, e preferendo i gusti alla frutta rispetto alle creme. Il gelato, da un punto di vista nutrizionale, può infatti essere considerato un vero e proprio pasto. E infine ridurre il più possibile anche il consumo di bevande alcoliche. Quello appena trascorso è stato un sabato davvero da bollino nero, così sarà anche il prossimo 10 di agosto per l'ulteriore esodo estivo, quello forse anche più importante perché poi sarà a cavallo anche del ferragosto. E allora c'è un piano davvero molto importante messo in campo da parte del 118 Aretino e sempre da lì arrivano degli importanti consigli. Laura Lucente. Sabato 3 agosto è stata la prima delle giornate da bollino nero per l'esodo estivo. La prossima sarà sabato 10 agosto. Nei tratti aretini delle principali arterie A1 e 45 Perugia-Bettolle, il 118 Aretino ha deciso un piano per cercare di limitare i disagi in caso di incidente. Ambulanze e mezzi di soccorso saranno stanziati ai caselli che rappresentano punti di appoggio e di riferimento, soprattutto per le categorie di persone più fragili, maggiormente soggetti a colpi di calore e malori a causa della sosta prolungata sotto il sole. Intanto i consigli dal 118 per un viaggio sicuro. Di portare sempre con sé in macchina quando affrontiamo dei viaggi l'acqua. L'acqua non importa che sia calda, che sia a temperatura ambiente, non importa, ma rintegrare i liquidi che perdiamo è una cosa importantissima e fondamentale. Non bere, non fare uso di sostanze alcoliche, perché questi oltre che a diminuire i tempi di reazione e la lucidità già compromessa per le alte temperature, aumentano anche la sudorazione stessa. E quando possibile, in caso di coda, quando possibile fermarsi nelle aree di sosta, anche per pochi minuti o nelle aree di servizio, per appunto staccare un attimo la spina, rigenerarsi e per poi ripartire più freschi, più concentrati per il proseguo del tragitto. Spesso i microtamponamenti si verificano anche a causa di rallentamenti per curiosi nella corsia opposta a quella dell'incidente principale. E questo va ancora di più a sovraccaricare il traffico del tratto autostradale e il nostro lavoro è quello della polizia stradale, dei vigili del fuoco e di tutti gli altri enti. Sono due gli immobili tolti dalle mani di una famiglia legata alla mafia. I Priolo erano gli anni 90 e quello fu il primo sequestro di questo genere che scattò proprio nel territorio arettino, in particolare nel comune di Terra Nuova Bracciolini, una vicenda che anche noi abbiamo raccontato nel tempo. Adesso l'appartamento confiscato che si trova nella frazione delle ville ha preso il nome di Residenza Nencioni, nome della famiglia vittima della più grave strage avvenuta in Toscana in seguito all'attentato terroristico dei georgofili. L'altra struttura che è stata tolta proprio alla proprietà mafiosa e affidata allo Stato è un capannone che si trova in località Poggilupi per volontà dell'amministrazione. ha preso il nome di Giuseppe Valariotti, un giovane amministratore che ha pagato con la vita la sua battaglia appunto alla mafia. Non abbattiamo i pini di Viale Giotto ad Arezzo. L'appello arriva in questo caso da Rossella Peruzzi, presidente del Comitato del Parco di Via Emilia ad Arezzo. Una battaglia, quella appunto in difesa delle piante, a cui non è sicuramente nuova la città di Arezzo. Ricorderete quello che era avvenuto con il Comitato di Cittadini di Piazza Saione. Durante l'ultimo consiglio comunale, scrive Peruzzi in un comunicato stampo, abbiamo appreso dai banchi della maggioranza l'intenzione appunto di abbattere tutti i pini di Viale Giotto. Il motivo sarebbero le radici che sfiorano la carreggiata appunto nell'asfalto. Ci chiediamo, dice la Peruzzi, se l'unica strategia possibile per risolvere questo problema sia proprio quella di tagliare gli alberi che creano problemi alle auto, la zona Giotto è anche tale proprio per la presenza di questi pini. Il loro totale abbattimento farebbe venire meno l'elemento identitario di una zona importante della città e la sostituzione con altri piccoli alberi richiederebbe decine e decine di anni per avere piante proprio dell'attuale grandezza. Insomma, staremo a vedere come andrà questa ennesima battaglia in difesa appunto delle piante ad Arezzo. E parlando proprio di identità, beh, insomma, la giornata di San Donato è sicuramente una delle più importanti per gli aretini. E allora è tutto pronto perché appunto i festeggiamenti avvengano nel migliore dei modi. Il servizio. La città di Arezzo è pronta a rendere omaggio al suo santo patrono San Donato, mercoledì 7 agosto, con rituali religiosi ed eventi tradizionali che si susseguiranno. Come la tradizione però le celebrazioni partiranno sin dalla vigilia a martedì 6 agosto con la cerimonia di offerta del cero in cattedrale dalle 21.15. Presenti le rappresentative dei quattro quartieri della giostra del Saracino, l'associazione Signarezzi, il gruppo musici della giostra del Saracino, la magistratura, il sindaco e i gruppi storici della provincia. Durante la cerimonia sarà offerto a San Donato il cero votivo decorato come di consueto dall'artista senese Rita Rosselliciani, decoratrice anche dei cedi che i quartieri offrono al Beato Gregorio nella cerimonia che a gennaio apre l'anno giostresco. Tante poi le iniziative collaterali organizzate in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour come l'apertura straordinaria del percorso espositivo I Colori della Giostra e la visita guidata gratuita alla scoperta delle immagini di San Donato nel Palazzo Comunale. Infine il gran finale con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà a festa il cielo della città a partire dalle 23. Gli eventi religiosi proseguiranno poi anche nella giornata di mercoledì 7 agosto. Ma come sappiamo questo è anche l'anno vasariano a 500 anni dalla scomparsa di Giorgio Vasari. Oggi un'altra importante tappa per celebrare questo illustre aretino. Ci spostiamo a Camaldoli con Chiara Sadotti. 16 capolavori di Giorgio Vasari commissionati dal monastero di Camaldoli e sempre rimasti là dove erano stati pensati dal grande artista. Adesso in mostra grazie a quiete e rinascita. Quiete che è una parola che Vasari nei suoi scritti, nelle vite, nelle ricordanze utilizza riferendosi a Camaldoli continuamente e rinascita perché è una rinascita interiore ma al tempo stesso è cronologicamente una rinascita dell'arte italiana. L'allestimento fa parte di un progetto legato al 450esimo anniversario della morte dell'artista. L'itinerario segue il filo rosso delle opere vasariani in Casentino. Perché far conoscere significa anche tutelare, nel senso che la bellezza non è soltanto per coloro che abitano alcuni luoghi ma la bellezza è anche far capire lo sforzo e in qualche maniera anche il fatto che è pubblica la bellezza. Quindi ciò che è conservato in un monastero non è soltanto per coloro che vivono nel monastero ma anche per coloro che vengono in visita al monastero. L'artista arrivò a Camaldoli nel 1537 in una situazione esistenziale difficile. L'ancora di salvezza gli arrivò appunto dai monaci camaldolesi. Arrivò a Camaldoli quindi che era un apprendista artista, era quindi un pittore diciamo così ancora alle prime armi e uscirà da Camaldoli come un artista a tutto tondo, completamente rivalutato e con una serie infinita di commissioni. In mostra le opere custodite all'interno del monastero di Camaldoli ma anche alcune mai viste. All'interno della clausura monastica sono oggi custodite ad esempio le predelle che un tempo stavano sotto la deposizione di Cristo nell'altar maggiore e in questo caso invece di spostare le opere i visitatori verranno portati all'interno quindi del coro per poter ammirare queste piccole predelline. Tra i miei visti in particolare l'orazione nell'orto che per la prima volta in quattro secoli e mezzo lascia la sua collocazione originale nella clausura per poter essere ammirata da un pubblico più vasto all'interno della biblioteca dell'antica farmacia. Fatta fare per la cappella dell'infermeria ovviamente essendo soltanto per i monaci ancora oggi quella Cristo nell'orto degli olivi in preghiera non era visibile. 500 bottiglie di succo di mele biologico sono state donate dalla Fraternita dei Laici alle varie associazioni del territorio che realizzano in città la tutela sociale. Tengo ad informare la città, ha detto il primo rettore Pierluigi Rossi proprio durante questa donazione che la Fraternita dei Laici ha dimostrato come una istituzione pubblica può fare agricoltura biologica, difendere l'ambiente, la salute umana e al tempo stesso avere il bilancio economico con un profitto annuale. Ed infine parliamo di sport. Ieri abbiamo sentito la voce della Vox Nicchi commentare questo discusso o incontro alle Olimpiadi di Parigi tra la pugile italiana e quella algerina. Oggi però insomma parliamo delle vicende di casa nostra proprio appunto con i vari successi portati a casa negli ultimi mesi proprio dalla Vox Nicchi. Sentiamo. Se vediamo la cosa per diciamo fino in fondo fondamentalmente stiamo togliendo dei diritti anche alla pugile algerina a cui stiamo puntando il dito ma lei fondamentalmente non ha niente che vada contro le regole che ha imposto il CIO e tutta la regola sanitaria. Sono vicino alla nostra amatissima federazione, sono vicino a tutti i nostri atleti. Aldo Nicchi Aretino, ex pugile, attuale componente della federazione pugilistica italiana e titolare assieme al fratello Adriano della storica società Vox Nicchi fondata dal Babbo Santi, ci mette la faccia e commenta con noi quello che è diventato secondo molti più un caso mediatico che altro. Parliamo dell'incontro alle Olimpiadi di Parigi tra l'Algerina e Manichelif e l'italiana Angela Carini. Pochi secondi sul ring nella categoria 66 kg Welter, poi l'atleta azzurra ha annunciato la decisione di ritirarsi contro la rivale iperandrogina. Al momento posso solo che essere solidale con la nostra grandissima Angela Carini che io stimo e adoro anche per la storia che si porta alle spalle. Come in tutti gli altri sport sono comunque degli eventi in cui si gareggia, non c'è una seconda chance, si deve dare tutto e tante sono le dinamiche che dobbiamo tenere in considerazione, non è semplicemente il fatto che non si è allenato. Non posso credere che un atleta vada le Olimpiadi non allenato perché noi abbiamo degli ottimi CT, abbiamo un'ottima nazionale, i ragazzi erano preparatissimi, però le dinamiche quando si dice sempre, quando si sale questi tre gradini sono tantissime le dinamiche che dobbiamo andare ad affrontare. La vicenda ha riacceso il dibattito sul grado di inclusività nelle competizioni agonistiche di alto livello, forse perché l'atleta era già finita sotto i riflettori mediatici ai mondiali 2023, quando venne squalificata perché secondo l'International Boxing Association, ente sportivo non riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale, i test condotti sulla pugile algerina avrebbero evidenziato un livello eccessivo di testosterone e la presenza di cromosomi maschili nel DNA. Una vicenda insomma che secondo molti non ha proprio nulla a che fare con i diritti negati del mondo LGBT, è stata la stessa Angela Carini nelle scorse ore a giustificare con una sola ragione, quella sportiva, il suo ritiro. Sport inclusione, le Olimpiadi ce lo hanno insegnato perché non so se molti sanno ma le Olimpiadi, le Olimpiadi, le vecchie Olimpiadi, quindi le Olimpiadi antiche che partono dal 996 a.C., naturalmente includevano tutti ma soprattutto si fermavano le guerre. Quindi questo è un segno positivo, i cinque cerchi significa inclusione, quindi io penso che sia un segno bellissimo il fatto dell'inclusione, ma questo non deve togliere assolutamente il rispetto e soprattutto la tutela ai nostri atleti. Ecco alle sue spalle un ring vuoto, siamo in agosto, da settembre riprenderà a pieno l'attività della box nicchi, voi avete tanti ragazzi ma anche tante ragazze. Abbiamo lavorato tanto in questi 30 anni, oggi abbiamo l'orgoglio di dire che abbiamo ben 27, se non erro, bambini tra i 5 e i 13 anni, poi abbiamo 23 pugili IBA, quindi sono i pugili quelli dilettanti e poi abbiamo anche, da quest'anno abbiamo intrapreso la nuova disciplina della gym box, che erano anni che noi non ci affacciavamo a questa disciplina e abbiamo più di 60 agonisti che portano in altri colori della nostra società, ma soprattutto della nostra società, di questo ne andiamo fieri ed orgogliosi. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie per la visione, grazie per la visione, grazie per la visione.